Le sorpresine di Bimbo Bell, siamo pronti anche oggi per aprire la sorpresina, vediamo cos'è oggi bambini, dai apriamo, 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 apriamo cos'è, wow, siete pronti? Vado, vado, guardate, un orsacchiotto, guardate, l'orsacchiotto, bellissimo, guardate che simpatico questo orsacchiotto, è un orsacchiottino abbiamo trovato, la sorpresina di Bimbo Bell, tutti i giorni vi aspetto con una sorpresina nuova, Ciao da Bimbo Bell, a domani!